Il vecchio barone de Raveau era stato per quarant'anni il re dei cacciatori della provincia, ma una paralisi alle gambe lo teneva inchiodato da cinque o sei anni alla sua poltrona. Poteva soltanto tirare ai piccioni dalla finestra del suo salotto o dall'alto della scalinata d'ingresso. Per tutto il resto del tempo leggeva. Era una persona di buona compagnia che aveva osservato in gran parte i gusti letterari del secolo scorso. Gli piacevano le novelle, i raccontini erotici e anche le storie vere che accadevano nella zona. Appena entrava un amico gli domandava «Allora, se niente di nuovo?». Era capace di condurre un interrogatorio come un giudice istruttore. Nelle giornate di sole faceva trasportare davanti alla porta la vasta poltrona simile a un letto. Un domestico teneva i fucili alle sue spalle, li caricava e li passava al padrone. Un altro servo nascosto in un boschetto liberava di tanto in tanto a intervalli irregolari un piccione. Così il barone se lo aspettava e rimaneva sempre allerta. Sparava su quegli uccellini dalla mattina alla sera, molto dispiaciuto quando s'era lasciato cogliere di sorpresa e ridendo sino alle lacrime se l'animale cadeva a picco oppure in maniera buffa o in attesa. Allora si voltava verso il servo incaricato delle armi e gli diceva, ridendo convulsamente «Hai veduto, Joseph, com'è venuto giù?». E Joseph rispondeva invariabilmente «Ah, il signor barone non ne sbaglia uno». All'apertura della caccia in autunno invitava, come ai vecchi tempi, gli amici e gli piaceva udire gli spari in lontananza. Li contava, lieto quando diventavano più frequenti. Alla sera esigeva che ogni cacciatore gli raccontasse per filo e per segno la giornata di caccia. Stavano a tavola ore e ore discutendo su ogni fucilata. Si raccontavano storie curiose e inverosimili secondo l'umore vanaglorioso dei cacciatori. Qualcuna era rimasta famosa e veniva ricordata regolarmente. La vicenda del coniglio che il giovane visconte di Burrill aveva mancato nell'atrio di casa sua? Ogni anno li faceva torcere dalle risa. Ogni cinque minuti un nuovo cacciatore esclamava «Sento fare brrr, brrr» e a dieci passi mi parte uno splendido stormo. Miro, punto, pam, pam! E ne vedo cadere una pioggia, una vera pioggia. Erano sette! E tutti stupiti ma fiduciosi andavano in estasi. Nella casa c'era una vecchia costumanza che veniva chiamata il racconto della beccaccia. Nel momento in cui questa regina della caccia è di passo, la stessa cerimonia veniva rinnovata ogni pranzo. Il barone impazziva per quell'uccello senza pari. Ogni sera ne veniva offerto uno per ciascun ospite, ma facevano attenzione a mettere le teste tutte nello stesso piatto. Poi il barone, simile a un vescovo che stia ufficiando, si faceva portare su un piattino un poco di grasso e ungeva con cura quelle preziose testine, tenendole per la punta di quel lago sottile che è il loro becco. Vicino a lui c'era una candela accesa. Tutti stavano zitti, in un'attesa colma di ansia. Poi egli prendeva uno dei piccoli crani preparati in quel modo, lo trafiggeva con uno spillo, piantava lo spillo in un tappo, tenendo il tutto in equilibrio su dei bastoncini incrociati come bilancieri, e fissava con delicatezza questo piccolo monumento sul collo di una bottiglia, sistemandolo come fosse una girandole. Tutti gli invitati contavano all'unisono e a voce alta. Uno, due, tre! Il barone, con la punta di un dito, faceva ruotare l'apparato con una certa rapidità. L'invitato, disegnato dal lungo becco appuntito, quando c'era fermato, diventava padrone di tutte le teste. Una ghiottoneria sopraffina, invidiata da tutti. Le prendeva a una una per arrostirle alla fiamma della candela. Il grasso crepitava mentre fumava la pelle rosolata appena. L'eletto dalla sorte poteva rosicchiare quella testina unta, tenendola per il becco e mugolando dal piacere. Tutte le volte i convitati alzavano i loro calici, bevendo alla salute del fortunato. E infine, quando aveva finito di mangiare l'ultima, il barone gli ordinava di raccontare una storia che fosse un indennizzo per i non fortunati. Ecco qualcuno di quei racconti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.